Let's go! La prima cosa è che c'è tutto da imparare, sono belle sensazioni, la macchina è da conoscere, quindi è molto propedeutica per migliorare e fare un racing è una sicurezza, sia Fabrizio che tutti i ragazzi del team, quindi diciamo che è un bel weekend sia divertente che propedeutico. Sarà il tuo primo appuntamento nel Trofeo Super Cup ma si tratta anche del tuo ritorno in pista dopo una lunga assenza, allora com'è ritrovare tutte quelle sensazioni, il feeling con la vettura e nel cimentarsi soprattutto nella battaglia durante le gare? Allora intanto i riflessi sono diversi, quelli dovuti anche un pochino all'età, poi è un po' anche come tornare bambini, quindi è anche divertente perché rifai tutto dal zero. E allora che obiettivi possiamo porci per questo weekend dove nella classe Clio RSK ci saranno ben 11 vetture al via? Allora intanto vediamo le condizioni meteo perché oggi è prevista sicuramente pioggia per le gare, per le qualifiche non si sa, gli obiettivi è arrivare in fondo. E allora ringraziamo Matteo Bigogno per essere stato in nostra compagnia, appuntamento in pista con le gare del Trofeo Super Cup, in bocca al lupo. Grazie a voi, ciao.